Mi fa molto piacere portare il saluto della mia città, sono il sindaco per la quarta volta di questa meravigliosa Trieste, 58esimo giro del Friuli Venezia Giulia, benvenuti a Trieste, Trieste città prima per qualità della vita, Trieste prima per trasferimenti, Trieste prima per il welfare, è una città veramente che ti inamori. Mi fa molto piacere di ricevervi e sarà un onore incontrarvi in questa piazza sul mare, è una delle più belle piazze d'Europa e una delle più belle piazze del mondo.